Un evento importante perché ha messo insieme 66 comuni di tutta la provincia. È stato un evento eccezionale sul quale si è acceso il faro e l'attenzione della Commissione europea perché è difficile poi raggiungere un risultato così significativo, cioè mettere insieme 66 comuni. Di fatto 66 sindaci hanno assunto un impegno strategico, comune, cosa abbastanza difficile. In generale i comuni tendono a portare avanti le loro politiche territoriali e in questo caso invece è stato un fatto eccezionale. Quindi credono fortemente in questa possibilità di realizzare un modernamento tecnologico del settore energia dei loro comuni e di portare nuove risorse nell'interesse dello sviluppo sostenibile. Le azioni sono, devo dire, tante nel senso che poi è stato preso in considerazione dai sindaci sia la mobilità sostenibile ma poi anche, devo dire, l'efficienza energetica degli edifici. Grande attenzione è stata data agli edifici pubblici, è del tutto evidente, quindi le scuole, gli ospedali, sono i settori principali che riguardano poi la vita pubblica e gli istituti che sono al servizio dei cittadini.